oh silvia che tu fai ma ma cos'è quella meraviglia silvia cos'è è una pomeragna è meravigliosa invece l'ho pesata stamattina è nata al 9 di settembre è meravigliosa in tutti i modi l'ho tentata l'ho pesata per l'esattezza pesa un chilo 195 un chilo c'è oltretutto quindi 9 o 9 settembre 8 mesi taglia certa quindi questa rimane così iva bella iva no silvia silvia per i veri in tema dove lo trovate un po meragna così no vabbè ma cos'è no silvia no ma poi c'è un carattere affettuosissimo iva iva ciao iva sono cazzata nera perché la mamma l'ho sterilizzata dico tanto è nata la figlia nata la figlia ma no 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 ragazzi perché non si possono mettere a riproduzione dei canini così piccoli i cagnari lo fanno ma io spero manco cagnari eh sì quello è anche di un chilo che bella che non la puoi mettere posizionare un attimo lì sul tavolino ascolta è già stufa è già sei già rotta le palle sei già rotta quindi diamo i nostri contatti silvia 3 3 9 25 17 0 24 sono io 3 3 9 6 4 4 4 4 2 7 5 è la misura ecco comunque ve li metto whatsapp esatto allora comunque poi vi metto tutti aspetta no no sottolineo sottolineo non è per tutti non è per tutti sottolineo ok ecco non è per tutti un chilo 195 piccolissima no non si capisce le dimente minuscola minuscola è più piccino di un chihuahua per capire sì sì solo c'è un sacco di pelo è tutto quello ragazzi ho tenuto un colore meraviglioso la fontanella è quasi fusa poi ragazzi sana soprattutto brava sana allora poi i contatti ve li metto tutti in descrizione quindi c'è tutto unica è unica questa canina è unica che spesso nascono così è unica anche perché comunque questo è per le persone speciali che vogliono un pompon di quelli speciali e di quelli meravigliosi esatto allora quindi contattateci per avere maggior info adesso vi salutiamo via oggi sono buona eh oggi è tranquilla Silvia perché siamo fatti due chilometri a piedi siamo distrutte allora oggi 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 è tranquilla allora vi si saluta un salutino anche da iva eppure lescia caldo quindi vi si aspetta e ciao a tutti dalla all color su un bacione mi raccomando mettete mi piace condividete su tutti i nostri social e vi mandiamo un bacione grande ciao a tutti ciao